Sono Barbara Tonetto, responsabile della comunicazione del Comune di Jesolo. Ho partecipato questa mattina al tavolo governance dei beni comuni, portando l'esperienza di partecipazione avviata dal mio comune. Mi sento così di sottolineare due aspetti. Primo l'importanza della formazione interna, cioè bisogna lavorare affinché all'interno dell'ente, amministratori e tecnici vengano formati al concetto della partecipazione, anzi al significato della partecipazione. L'altra riflessione che ho voluto condividere con i miei compagni di tavolo è l'aspetto delle nuove tecnologie, ruole che possono assumere nei processi di partecipazione, ossia hanno, secondo me, la possibilità e la capacità di obbligare le pubbliche amministrazioni ad essere più trasparenti. A me è piaciuto così utilizzare questa frase, attraverso le nuove tecnologie si svelano più velocemente i blef, con tutto rispetto ovviamente, per le attività e le iniziative delle pubbliche amministrazioni, perché proprio per questa caratteristica di essere diretti, di spingere sul dialogo tra pubblica amministrazione e cittadini, in qualche maniera obbligano le pubbliche amministrazioni a non varare, o comunque se lo fanno, questo aspetto emerge più velocemente.